Buongiorno dal nostro telegiornale, sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, per certi versi inquietanti il problema della carenza idrica in diverse zone di Civitavecchia, segnalazioni a riguardo arrivano ormai sia dai quartieri del centro che dalla periferia. Intanto gli utenti, trasperati per un'estate che sembra sempre più assomigliare a quella terribile della 2017, cominciano di nuovo ad organizzarsi in servizio. Nell'attesa di capire per quale ragione, di fronte ad una portata più che sufficiente di tutti gli acquedotti che servono la città, Civitavecchia si ritrovi a soffrire la sete, gli utenti si organizzano. Tra quanti sono iscritti alla pagina Facebook Emergenza Acqua Civitavecchia, che conta su circa 400 iscritti ed è ormai operativa da qualche anno, è infatti nata l'idea di costituire un comitato cittadino. Un primo incontro, che dovrebbe essere la riunione costitutiva dell'organismo, è stato fissato per lunedì prossimo. L'intendimento dei promotori è quello di creare un gruppo di persone che, rappresentando tutti, sia l'interfaccia di Acea e del Comune, ma anche quello di dotarsi di tutti gli strumenti tecnici e legali per poter gestire eventuali denunce. La riunione costitutiva in programma, come detto, lunedì prossimo si terrà a Campo dell'Oro, nel piazzale antistante la parrocchia di San Giuseppe. Intanto la situazione invece di migliorare peggiora. Ai quartieri storicamente assetati, ovvero alle zone Benciegatti-Uliveto, Centrocittà e zona bassa di Campo dell'Oro, si stanno aggiungendo progressivamente altre aree della periferia cittadina, come San Liborio, San Gordiano e Boccelle. Intanto ha provocato rumore l'intervento di ieri del sindaco Cozzolino, che ha messo in evidenza, come in questo periodo, la portata idrica dei vari acquedotti sia praticamente doppia rispetto a quella che si riscontrava lo scorso anno. In molti si chiedono infatti come sia possibile che, nonostante la città abbia a disposizione circa 300 litri al secondo, vi siano interi quartieri che soffrono la sete. Peraltro, a differenza di quanto avveniva la scorsa estate, quest'anno non si riscontrano nemmeno tante perdite idriche. Quindi la domanda è legittima. Dove va a finire tutta l'acqua che Civitavecchia ha a disposizione? E un SOS per la mancanza di acqua arriva anche dal centro a Via Cialdi. Alcuni palazzi sono a secco da tre giorni. Inutili le richieste di intervento fatte ad Ascea. Situazione di grande disagio anche in Via Antonini, tra Viale Matteotti e Viale Baccelli, come raccontano abitante. Da sabato senza acqua, con due figli piccoli, è costretto a careggiare l'acqua per cinque piani fino al suo appartamento. L'intervista. Siamo qui in Via Val Antonini. Solito problema dell'acqua, come in tante altre zone di Civitavecchia. Lei è da sabato, si è addirittura senza acqua. Che situazione sta vivendo? La situazione è molto drastica. Io abito qua da circa due anni. È vero che in tutta Civitavecchia manca l'acqua, ma questo palazzo ha qualche problema proprio di fondo. Io abito lì all'ultimo piano, mi faccio 90 scalini tutti i giorni e traccheggiare l'acqua è diventato un incubo. Io ho due minori, spesso mi lavo nella fontanella qui sotto casa e non riesco a riuscire a mettere d'accordo i proprietari, il comune, visto che è un palazzo di proprietà del comune, a mettere d'accordo a tutte queste figure per poter avere un autoclave, comunque un serbatoio che ci permette un pochettino, di avere dell'acqua di fondo. Poi che a Civitavecchia manchi l'acqua, lo sappiamo, capiamo bene la gravità, i lavori che magari saranno a fare, le perdite. Però proprio in questo palazzo c'è proprio un problema di autoclave, serbatoio, che ripeto, le figure non riescono a mettersi d'accordo. Comunque con due bambine o mi traccheggio l'acqua oppure vado a casa di un'amica, di mia madre, a lavarmi e comunque custodirci, comunque, perché non avendo acqua sa che disagio c'è. La sua richiesta qual è? La mia richiesta è quella di appunto di avervi chiamato a voi per vedere se magari possiamo così accelerare un pochettino i tempi, visto che sono state delle varie enti, il Comune e l'Ater, che nessuno sa niente. C'è un amministratore che è stata da poco nominata, anche lei lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Qui non si vede nessuno, le mie quote condominali vengono pagate con tanto di ricevute. Spero che con questo incontro risolvere il problema. Rimango alquanto basito leggendo le parole del sindaco Cozzolino, il quale afferma di essere riuscito nel tempo ad evitare una potenziale situazione catastrofica per la cittadinanza relativa alla mancanza di acqua. Il commento del segretario del Partito Democratico Germano Ferri, secondo cui è stato un errore grave da parte dell'amministrazione quello di affidare completamente fin da subito la gestione del servizio ad Acea, senza un affiancamento iniziale con i tecnici comunali che conoscono ormai le criticità del nostro sistema idrico, ma limitandosi, come detto dal primo cittadino stesso, solo a qualche suggerimento. Vorrei sapere, conclude Ferri, quanta acqua della città è effettivamente destinata al porto durante questo periodo. Come la CPC e i sindacati, anche la Minosse spera in un passo indietro dell'Enel sulla gara di appalto per lo scarico del carbone in porto. La società comunque si sta preparando per partecipare al bando, come spiega uno dei lavoratori. L'intervista. Stefano Del Mistero è uno dei rappresentanti sindacali, nonché il lavoratore della Minosse. Che sta succedendo? Voi comunque parteciperete alla gara dell'Enel? Noi comunque partecipiamo alla gara dell'Enel, mi pare ovvio. È il minimo che dobbiamo anche ai ragazzi che lavorano per la Minosse e che dobbiamo per noi. Stiamo procedendo nei tempi previsti dalla gara, anche se magari speriamo in un ripensamento da parte dell'ente organizzatore. Si è parlato tanto di una gara che contravviene alcuni punti della legge 84 del 94. In parole semplici, che significa? Parole semplici significa che il bando è stato realizzato non tenendo conto di quelle che sono alcune delle peculiarità normative della legge 84 del 94 che impongono dei criteri e delle regole affinché chi vuole operare all'interno del porto sia obbligato da rispettarle. Uno degli esempi è la possibilità per poter ottenere, avere un appalto, un lavoro all'interno del porto, quello che l'impresa sia già in possesso di un titolo autorizzativo che venga rilasciato dall'autorità portuale senza il quale l'impresa non può operare. Ecco, in proposito, l'autorità portuale ieri la dottoressa Macì vi ha mandato una nota a voi come Minosse e all'Enel in cui lamenta una serie di criticità su questo bando. Lamenta quelle che sono delle criticità relativamente a quelle che sono le norme fissate e non derogabili dell'84-94. Gli esponenti storici della CGL scendono in campo al fianco dei lavoratori portuali nella vicenda dello scarico del carbone. Pensiamo che amministrazione comunale e autorità portuale di sistema non possano rimanere stranei e debbano far sentire la loro voce in maniera determinata, affermano i tre ex segretari generali del sindacato, Fabrizio Barbaranelli, Piero Alessi e Deraldo Riccobello, assumendo posizioni intransigenti a difesa del lavoro e della imprenditoria locale. Per quanto ci riguarda, noi non vogliamo assistere in maniera neutrale allo scontro in atto. I tre, oltre ad esprimere la propria solidarietà, invitano anche la politica a prendere posizione per non lasciare i portuali soli in questa sfida. Occupazione della suolo gratuita ai negozi per tutti, fine settimana fino al 20 agosto. Pannelli luminosi che invitano allo shopping, una navetta tra il parcheggio di interscambio, aperture fino alle 22, parcheggi gratis negli spazi blu e ancora tour guidati alle botteghe del centro storico. Sono alcune iniziative messe in campo dal comune di Genova per promuovere la prima giornata dei saldi estivi al via sabato 7 luglio e in concomitanza con la festa per i 70 anni di Costa Crociere. Ne dà notizia Tullio Nunzi, presidente dell'associazione Meno Poltrone Più Panchine, che parla di attività che amministrazione genovese e associazioni di categoria hanno avviato in modo condiviso. Nunzi sottolineando che dall'occasione sono nate idee per una collaborazione anche futura tra il mondo delle crociere costa e commercianti chiede perché, vista l'importanza economica dei saldi per il commercio e l'economia e visto che il porto è il primo in Europa per le crociere, non si possano avviare iniziative simili anche a Civitavecchia. Tanto più conclude che esistono progetti finanziati da Camera di Commercio Regione che vanno in questo senso. Dissesto inevitabile sono le parole usate dal neosindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per descrivere la situazione delle casse comunali della Perla della Tirreno. Il commissario caporale ha lasciato alla successiva amministrazione comunale il compito di dichiarare il fallimento del comune. Sono le parole del neosindaco di Santa Marinella Pietro Tidei secondo il quale gli spazi di manovra per il comune sono ridotti ed il distesto è ormai inevitabile. Proprio ieri mattina il primo cittadino si è recato insieme al funzionario Peretti e dal consulente Venanzi al Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Roma dove è stato anche ricevuto dal prefetto Paola Basilone. Tidei racconta che i colloqui sono stati cordiali ed è stata dimostrata la massima disponibilità. Abbiamo preso atto della situazione, afferma Tidei, e stiamo dolorosamente prendendo atto delle conseguenze. Il sindaco di Santa Marinella spiega di aver tentato la via alternativa del riequilibrio di bilancio, peraltro già tentata dall'amministrazione bacheca col parere negativo dei revisori perché si basava su una serie di accertamenti di oltre 14 milioni di euro di attività che già lo scorso anno non avevano consistenza. Sempre ieri si è riunita ancora la commissione speciale incaricata dalla sindaco di provvedere a verificare la qualità dei conti comunali e le conseguenze della situazione finanziaria. Già nel primo consiglio comunale, convocato per lunedì pomeriggio nella sala Ode Scalchina Centrocittà, Tidei illustrerà a consiglieri e cittadini le risultanze dei lavori della commissione e le iniziative che la sua amministrazione intende portare avanti per salvaguardare gli interessi della città, anche in una situazione disastrata come quella nella quale sarà costretta. Il primo cittadino spiega che tra i primi atti ci sarà la richiesta di anticipazione di somme già stanziate e che il comune doveva incassare tra oltre 12 mesi. Questo per favorire, almeno momentaneamente, la gestione dei flussi di cassa e il migliore assolvimento delle obbligazioni dell'ente. Presso l'ufficio della Segreteria Generale, al primo piano di Palazzo della Pincio in Piazza Guglielmotti, sono stati depositati moduli per la raccolta delle firme, per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva. Chiunque fosse interessato può recarsi presso l'ufficio della Segreteria Generale per la sottoscrizione nei seguenti orari, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. La raccolta delle firme terminerà il 2 di agosto. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale, ma restate con noi perché tra poco ci sono le notizie di Sportime 24. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Avifer realizza porte e cancelli, finestre in fissina alluminio e pvc. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca è in Vienenna 9A in zona industriale. Ben trovati con Sportime 24, apriamo questa edizione con il calcio. Il mercato è cominciato da pochi giorni e non è arrivato ancora nessuno squillo da parte del Civitavecchia, ma sono comunque diverse le trattative in ballo per la società nerazzurra che vuole regalare a Mister Rocchetti una squadra di livello. Il servizio. Tra giocatori non confermati e possibili arrivi, il mercato del Civitavecchia entra nella fase decisiva. Della passata stagione pochissimi saranno i calciatori che resteranno in maglia nerazzurra. Nencione è in procinto di passare alla polisportiva Monticimini, Gimmelli è in dubbio se rimanere o andare via. Lo stesso dicasi per Marino, mentre De Santis è passato al Montalto. Sono andati via soprattutto per motivi di lavoro e di studio anche i giovani Gaudenzi e Forieri. Il primo alla CSL Soccer, il secondo al Corneto Tarquigna. Ecco che quindi si aprono diversi buchi che verranno riempiti al più presto per dare da Andrea Rocchetti, una squadra già pronta per l'inizio della preparazione atletica. Intanto bisognerà capire cosa succederà con il portiere, visto che il Civitavecchia ha due possibilità, dare fiducia al giovane San Filippo, classe 2000, o prendere un portiere esperto. Servirà poi un difensore centrale da affiancare a Fatarella e Vincenzi se Gimmelli dovesse partire. Con l'addio di tre carichi, ufficializzato dalla CPC, scoperta anche la fascia destra di difesa, ma i problemi maggiori ci sono a centrocampo, dove è rimasto il solo Marras più tanti altri giovani della cantera. Lì bisognerà intervenire in modo sostanziale, soprattutto per quanto riguarda il settore over. Non dovrebbero esserci problemi invece in attacco, dove alla conferma di Cerroni si aggiungerà l'acquisto di Manuel Vittorini. L'attaccante ex Montalto è ormai ad un passo dal ritorno in Nerazzurro, manca solo la firma. Il nome nuovo per rinforzare il reparto avanzato è però un altro. Si parla infatti di un interesse per Lorenzo Zagarella, classe 92, con un passato importante in Serie D con le maglie di Viterbese, Todi e Spoleto. Un giocatore importante per un attacco davvero d'alto livello. Poi però, come detto, si dovranno rinforzare con urgenza gli altri reparti per una stagione che dia più gioia e che dolori al tifo Civitavecchiese. Intanto si allungano le panchine nei campionati di eccellenza e promozione del Lazio. La federazione ha deciso che nella prossima stagione le riserve passeranno da 7 a 9. Una novità che segue di un anno quella delle sostituzioni, passate da 3 a 5. Lasciamo il calcio e passiamo alla windsurf. Veronica Fanciulli commenta il quinto posto ai giochi del Mediterraneo, dove l'atleta dell'aureonautica militare ha fatto registrare risultati decisamente positivi, soprattutto nella seconda parte di gare. Un ottimo punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti di agosto, quando si svolgeranno mondiale ed europeo. Veronica Fanciulli è andata benissimo ai giochi del Mediterraneo, soprattutto la seconda parte delle regate in cui hai fatto registrare risultati di primissimo livello. È così? Sì, è stata una regata difficile, molto faticosa dal punto di vista delle condizioni meteo, perché abbiamo trovato veramente pochissimo vento e quindi il windsurf con pochissimo vento è molto fisico come sport. La seconda parte di regata, per quanto mi riguarda, è stata decisamente migliore della prima. Ho fatto dei parziali, quindi delle regate sempre nelle prime, insomma, mentre purtroppo nella prima parte di regata ho pagato una regata sbagliata che mi ha fatto allontanare a livello di punteggio dal podio. Quindi purtroppo finisco in quinta posizione la regata, però comunque soddisfatta di tutte le prove che ho svolto. Anche perché Veronica arrivi vicinissimi agli atleti che sono arrivati poi sul podio, quindi a livello di distacco eri lì anche tu. Sì, sì, eravamo veramente molto vicine come punteggio. Purtroppo essendo una regata dove non c'erano tanti partecipanti non è stato facile recuperare quel distacco iniziale a livello di punti. Però eravamo veramente molto vicine. Anche l'ultimo giorno è stata una regata che le prime cinque, insomma, abbiamo fatto tutte compatte perché ce la giocavamo fino alla fine. In vista dei prossimi appuntamenti, quindi si riparte dalla seconda parte in particolare di questi giochi del Mediterraneo e cosa c'è da migliorare invece nell'approccio forse alla manifestazione, quella che è stata anche a Tarragona? Sì, sicuramente devo essere più costante nei risultati perché magari nella prima parte di regata appunto ho avuto dei picchi primo-secondo e poi ho fatto regate più sbagliate, mentre nella seconda parte ha pagato la costanza. La prossima regata importante è appunto il mondiale. Abbiamo un mondiale europeo ad agosto, due regate vicine. Quindi sì, direi che insomma la regata di Tarragona può essere veramente un punto di inizio per prendere spunto per fare bene il mondiale europeo. Passiamo ora alla palla a mano, importante chiamata per Anna Giulia Francesconi. Il giovane talento della Flavioni è stata convocata dalla nazionale di Beach Handball per la trentesima edizione del Memorial Calise. Manifestazione internazionale valida anche come tappa del campionato europeo e del campionato italiano. Il torneo in corso di svolgimento a Gaete si concluderà domenica. Ebbene con la palla a mano si chiude questa edizione di Sportime 24, subito dopo la sigla il meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Di serata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.